Kate Middleton, durante l'ultima apparizione, ha messo una mano sulla pancia. Qual è il significato del gesto della principessa? Kate Middleton è stata la protagonista, il 15 giugno 2024, del Trooping the Color, la tradizionale parata militare con cui ogni anno viene celebrato simbolicamente il compleanno del re Ha deciso di non rinunciare all'evento e di parteciparvi, tornando così in pubblico dopo circa tre mesi di assenza Qualche ora prima aveva annunciato il suo, intervento, con un messaggio ufficiale, in cui spiegava che sarebbe stata, appunto, presente alla cerimonia Non sono mancate parole sulle sue condizioni di salute. Sto facendo buoni progressi ma come saprà chiunque si sottoponga alla chemioterapia? Ci sono giorni buoni e giorni brutti In quei giorni brutti ti senti debole, stanco e devi arrenderti al riposo del tuo corpo Ma nei giorni buoni, quando ti senti più forte, vuoi sfruttare al meglio il tuo benessere, aveva fatto sapere Durante l'evento, però, qualcuno ha notato che lei ha messo una mano sulla pancia. A quanto pare c'è un motivo preciso dietro al suo gesto Kate Middleton. Il significato della mano sulla pancia. Ecco perché ha fatto quel gesto Dopo mesi di assenza a causa della malattia che sta affrontando, Kate Middleton è tornata a mostrarsi in pubblico La sua presenza è stata accolta dai sudditi con caloroso affetto e con entusiasmo Durante la cerimonia del trooping the color. Però come fa sapere il giornale Telegraph la principessa avrebbe fatto un gesto che non è passato inosservato Ovvero avrebbe messo una mano sulla pancia. Kate si è data una breve pacca sullo stomaco Come fa sapere il quotidiano? Non si sa se l'abbia fatto per sistemarsi il vestito o per proteggersi Dato che ha subito un recente intervento chirurgico Era difficile dire se per lisciarsi il vestito dopo essere stata seduta durante il viaggio o per proteggersi dopo un recente intervento chirurgico A commentare poi la notizia è intervenuto come riporta il sito notizie l'oncologo Clive Pidel, che si è scagliato contro quanto riportato dalla stampa britannica Come specialista in cancro trovo questo livello di giornalismo spaventoso È difficile sapere da dove cominciare, quando la mancanza di comprensione di come il cancro possa colpire le persone sia così scarsa, ha detto senza mezzi termini In seguito alla recente apparizione di Kate, in tanti si stanno chiedendo quando ritornerà a mostrarsi Antonio Caprarica, durante un intervento a Mattino 4, aveva fatto sapere che la principessa potrebbe non farsi vedere in pubblico prima dell'autunno Mi azzardo a prevedere che non la rivedremo prima dell'autunno, ed è un suo diritto